Un anno dopo la fotografia più commentata del centro-sinistra italiano non c'è perché alla festa dell'Italia dei Valori di Basto sono tornati solo due esponenti di quel fermo immagine, l'organizzatore Antonio Di Pietro e il leader di SEL, Niki Vendola. È mancato il terzo protagonista ma l'assenza del segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani è stata così discussa, citata e richiamata che è sembrata quasi una presenza, tanto che quella foto non è più così sbiadita e lo stesso Di Pietro ha affermato che a Basto si è girato un film. Secondo molti osservatori inoltre il presidente dell'Italia dei Valori per unire il suo partito avrebbe deciso di abbandonare i non allineati puntando sull'alleanza proprio con il PD e con SEL ma lui nega. L'Italia dei Valori non è allineata ora più che mai né con le politiche personalistiche di Berlusconi né con le politiche ragionieristiche di Monti. chi si è allineato si deve disallineare e costruire una coalizione di centrosinistra alternativa a livello nazionale di questo modo di fare governo dove prendo, quando mi servono i soldi, è più onesta e più deboli, dove non vado a fare una selezione qualificata della spesa. Voglio dire non c'è una regione più del Molise che possa capire che cosa vuol dire avere un governo che fa gli interessi di pochi al danno di molti. Tanti temi affrontati nella tre giorni dall'urgenza della legge elettorale alle proposte dedicate ai giovani e all'occupazione ribadite da Antonio Di Pietro nel suo discorso conclusivo in cui ha rimarcato la distanza dal Premier Monti e da qualsiasi intesa con l'Udc. In sostanza l'Italia dei Valori ha auspicato il cambiamento utile di quella che è stata definita come una rivoluzione gentile che riporta i cittadini a riappropriarsi dei diritti e della democrazia. L'Italia dei Valori sta facendo passi avanti per costruire una coalizione di governo alternativa a Monti e a Berlusconi ma deve essere alternativa nei programmi non soltanto nelle sigle e quindi è il Partito Democratico che dovrà scegliere. Presidente Di Pietro il programma ce l'ha, la coalizione forse ma la leadership? Noi rispetteremo la volontà degli elettori attraverso le primarie, se primarie di coalizione si tratteranno. Se si tratteranno i primarie di partito non possiamo entrare nella competizione all'interno del Partito Democratico e certamente sul piano dell'impegno programmatico riteniamo che il programma che sta esponendo Bersani sia per l'italiano meglio di quello che sta esponendo Renzi.